Benvenuti all'oroscopo di oggi. Oggi esploreremo insieme le energie celesti che influenzeranno la nostra giornata e ci accompagneranno nei nostri percorsi. Preparatevi a immergervi nelle previsioni astrologiche di oggi e lasciatevi guidare dalla magia dell'universo. Ciao Ariete. Caro Ariete, sembra che l'universo stia rendendo le tue giornate un po' più interessanti. Forse ci sono alcune sfide sia sul fronte lavorativo che amoroso, ma la tua energia rimane una risorsa affidabile su cui fare affidamento. Le finanze potrebbero richiedere un po' di attenzione extra, quindi è meglio essere cauti con le spese superflue. In questi giorni, mantieni le orecchie ben aperte, poiché potrebbero giungere consigli o supporto inaspettato, soprattutto da individui con un bagaglio di esperienza o che ammiri come fonti di ispirazione. Sebbene la tua indipendenza sia il tuo superpotere, non fa mai male osservare coloro che hanno raggiunto ciò che desideri e apprendere dalle loro storie ed esempi. Questi sono insegnamenti preziosi per agire in modo più consapevole. La mattina riserva spazi per la riflessione sui recenti avvenimenti, gennaio si è concluso con sfide, mentre febbraio ha iniziato con qualche disturbo fisico. Molti necessitano di ricaricare energie e recuperare il benessere. Tuttavia, le previsioni astrologiche promettono miglioramenti, specialmente verso la metà del mese. Se affronti crisi amorose, è consigliabile evitare decisioni drastiche prima del sedi. In alcuni casi, una tensione può essere temporanea e superabile dopo la metà del mese. Ciao Toro! Ehi Toro, sembra che ci siano alti e bassi nelle tue stelle ultimamente. Non è il momento migliore per rischiare troppo, né in amore né sul lavoro. Cerca invece una strada più sicura e stabile. La tua energia potrebbe essere altalenante, quindi non esagerare. Riguardo alle finanze, sarebbe meglio tenere d'occhio le spese extra. Nonostante tutto, c'è sempre una luce di speranza nel buio. Oggi, la luna e venere offrono un influsso positivo, suggerendo indicazioni utili per ritrovare la serenità. Le stelle incoraggiano azioni orientate al futuro. Nel campo sentimentale, fai attenzione alle dinamiche con ariete, bilancia e cancro. Il desiderio di amore e conforto è forte, e anche un amico può offrire supporto in questi momenti. Approfitta di questi giorni per collaborare con le persone intorno a te, uscire dal tuo mondo, trascorrere del tempo con gli amici, connetterti con nuove persone e riscoprire il tuo lato giocoso. Abbandona gli ostacoli autoimposti, accetta gli inviti e cogli le opportunità che si presentano. Non solo non perderai nulla, ma guadagnerai nuove esperienze e connessioni. Ciao gemelli. Salve gemelli, sembra che ci siano alti e bassi nell'andamento del tuo universo personale ultimamente. Alcuni settori della tua vita sono pieni di energia, mentre altri potrebbero richiedere più impegno. Non farti abbattere dalle piccole sfide amorose o finanziarie, usa la tua intuizione acuta per navigare le acque agitate. Sul lavoro e nella fortuna hai delle buone carte da giocare a tuo favore. Si prospettano giorni molto interessanti per te. L'universo aprirà porte e ti offrirà opportunità inaspettate o nuove prospettive sulla tua vita. Le sfide legate al lavoro, agli studi e all'aspetto economico sono attive, e ricorda che meriti tutto ciò che sogni. Non sabotarti e non farti spaventare quando qualcosa di straordinario accade, perché lo meriti pienamente. Nel pomeriggio, il segno dei gemelli si libera da influenze negative, promuovendo una ricerca di tranquillità. Mercurio è attivo, rendendo mercoledì un giorno favorevole per decisioni lavorative. È un periodo di impegno e speranza, con Giove pronto a portare opportunità a partire da giugno. È tempo di sviluppare nuovi progetti e far fiorire la creatività. Ciao Cancro. Cancro, sembra che tu stia vivendo una fase un po' altalenante ultimamente. In amore, potresti sentirti un po' instabile, quindi mantieni la calma e tieni duro. Sul lavoro, concentrati sui dettagli che potrebbero essere la tua chiave per il successo. Non fidarti troppo della fortuna, ma lavora duramente per raggiungere i tuoi obiettivi finanziari. L'energia sembra un po' altalenante, ma cerca di mantenere il passo con il ritmo del cambiamento. In questi giorni, prova a dare una svolta alla tua routine quotidiana. Abbandona la monotonia, esci dalle tue abitudini consolidate e dai una boccata d'aria fresca alla tua vita quotidiana. Riscopri lo stupore nei piccoli dettagli, sperimenta con un nuovo look o esplora nuovi percorsi e generi musicali. L'avventura è sempre a portata di mano, basta saperla cercare. Sii motivato e carico di energia per cogliere ogni opportunità che la vita ti offre. L'inizio di febbraio è altalenante dopo un gennaio confuso. Oggi offre una buona condizione al mattino, con stanchezza nel pomeriggio, ma previsioni migliori dalle 14. È importante non prendere decisioni affrettate in periodi astrologicamente turbolenti. Anche se le cose sembrano bloccate, la situazione può cambiare. Guarda avanti, perché la seconda metà di marzo promette migliorie. Ciao leone. Ehi, leonino. Potrebbe sembrare che qualcuno abbia lanciato una piccola sfida nel tuo universo cosmico. La fortuna sembra in pausa, e il lavoro potrebbe presentarti alcune sfide extra. Nel regno dell'amore, le acque sono tranquille, ma è meglio prestare attenzione alla tua salute. Niente di allarmante, ma la prevenzione è sempre la scelta saggia. Ricorda, ogni fase ha il suo significato. Approfitta della mattina e tieni presente che il lavoro prende il sopravvento in questo periodo. I professionisti desiderano innovare rispetto al passato, mentre chi ha preoccupazioni finanziarie cerca soluzioni entro il 23. L'amore procede su un percorso tranquillo, ma non procrastinare decisioni cruciali per il futuro. Coloro che si trovano in situazioni complesse dovranno alleggerire il proprio cuore entro fine mese. Gennaio sta salutando il palcoscenico, ma il suo ultimo atto è una lezione potente, osa di più. Caro leone, il tuo cuore è un guerriero, e sappi che credere aprirà le porte dell'Altissimo e del lontano, portandoti la libertà di plasmare la vita dei tuoi sogni e, soprattutto, la vita che meriti. Non accontentarti di mediocrità, ricorda che sei nato per brillare in tutta la tua grandezza. Ciao Vergine! L'universo intende parlarti d'amore, tessendo atmosfere romantiche intorno a te. Abbi il coraggio di aprire il tuo cuore, di esprimere ciò che senti e di mettere le carte in tavola, assicurandoti di essere ascoltato e di ascoltare a tua volta. Che tu abbia già un compagno o che l'amore sia l'ultimo dei tuoi pensieri, questo è il momento di lasciare alle spalle il passato e di definire chiaramente cosa vuoi tu da questo momento in poi. Il pomeriggio si prospetta fruttuoso, con domani promettente ancora di più. Se hai sperimentato tensioni recentemente, oggi ti sentirai più confortato. I professionisti indipendenti potrebbero fare scoperte illuminanti, risolvendo anche questioni del passato. Hai liberato un peso e ora procedi con maggiore leggerezza. Approfitta pieno della serata, perché il successo personale è in arrivo. Chi lavora a provvigione o a contatto con il pubblico vedrà conferme e nutrirà il desiderio di esplorare nuove opportunità lavorative, magari anche in ambiti diversi. Ciao bilancia. Bilancia. Sembra che l'universo stia lanciando un mix di tutto nella tua direzione. Potresti trovarti di fronte a successi sorprendenti in alcune aree, mentre altre potrebbero presentarti delle sfide. Affronta tutto con filosofia e cerca di mantenere il tuo leggendario equilibrio. Ricorda, anche quando alcune parti della tua vita sembrano scomposte, c'è sempre una lezione da imparare. Le stelle sussurrano che è tempo di organizzarti, di affrontare ciò che hai rimandato agli dopo e di abbracciare la responsabilità. L'universo è tuo alleato, offrendoti chiarezza e sostegno. Non temere di essere responsabile, pai tutte le risorse per affrontare il mondo e emergere trionfante. Potresti dover affrontare qualche tensione legata alle relazioni, con difficoltà a farti comprendere dal partner risolvere i problemi altrui può essere interpretato come invadenza, mentre distanziarsi può sembrare insensibilità. La comprensione reciproca è complicata, ma dopo il 16 potrai agire con maggiore chiarezza. Nel frattempo, osserva e rifletti, perché la fatica accumulata potrebbe offuscare il tuo giudizio. Ciao Scorpione. Beh, Scorpione, sembra che le stelle si stiano divertendo a giocare con te. Nel campo dell'amore, potrebbero sorgere ostacoli inaspettati, ma nulla che tu non possa gestire. Sul fronte lavorativo, è il momento di essere vigile, poiché dietro alle sfide potrebbero nascondersi opportunità. La tua energia è come una montagna russa, ora in alto, ora in basso, cerca di rimanere saldo e tutto si risolverà nel migliore dei modi. Nel pomeriggio ritrovi la tua determinazione, anche se restano controversie su questioni finanziarie. Esprimi le tue esigenze con calma e scrivi un'email per comunicare le tue richieste, anche se non aspettarti risposte immediate. Tieni presente che ottenere ciò che desideri prima del 23 potrebbe essere difficile. Per quanto riguarda l'amore, mostra comprensione, ma chi non riceve la stessa considerazione potrebbe diventare più impaziente e meno incline a mediare nella seconda metà del mese. Ti vedo scivolare a tutta velocità, un fiume di energia e creatività ti scorre nelle vene. Idee vincenti bussano alla tua porta, non lasciarle sfuggire, sono le chiavi per risolvere ogni problema e garantire il successo nei tuoi progetti. Tieni sempre a portata di mano un quaderno o la tua app di appunti, perché anche nei sogni possono nascondersi messaggi cruciali per il tuo cammino. Ciao Sagittario. Con l'attuale transito di Mercurio, il panorama cosmico risulta estremamente intrigante, suscitando un forte desiderio di viaggiare e stabilire contatti con persone lontane. Tuttavia, vale la pena notare che viaggiare con la mente può essere altrettanto gratificante, spesso, per i giovani nati sotto il segno del Sagittario, un libro avventuroso che esplora terre esotiche e animali straordinari può essere il compagno ideale. Non sorprenderti se in questi giorni ricevi conferme o notizie da persone con cui non hai avuto contatti da tempo, o se ricevi chiamate da lontano. Il fine settimana potrebbe riservare sorprese, venerdì e sabato promettono di essere giornate intense, mentre la domenica suggerisce un po' di meritato relax. In generale, ti trovi in una fase di recupero emotivo e creativo, sei in grado di intuire le tendenze prima degli altri e hai il coraggio di sperimentare, sapendo che alla fine gli altri ti seguiranno. Rimani un pioniere, non solo nello zodiaco, ma anche nella vita. In questo periodo, ti invito a lasciarti avvolgere dall'amore di chi ti sta intorno. La tua indipendenza è senza dubbio una tua caratteristica preziosa, capace di darti forza e consapevolezza delle tue capacità. Tuttavia, evita di isolarti. Ciao Capricorno! Le stelle attuali portano con sé un grande valore e importanza, specialmente per coloro che lavorano in proprio o che sono alla guida di un'azienda. Questo è il momento ideale per sfruttare contatti e collaborazioni, Luna, Venere, Giove, Saturno e Marte si trovano in un aspetto estremamente favorevole. Tuttavia, la vasta gamma di impegni potrebbe lasciarti esausto alla fine della giornata. Se per alcuni Capricorno questa energia positiva non è percepita, potrebbe essere il momento di riconsiderare lo stile di vita, forse sei imprigionato in una routine noiosa o in convenzioni superate, ma la paura del cambiamento non dovrebbe limitare la tua creatività. Tra stasera e domani, le stelle mostrano un maggiore favore anche in campo sentimentale. Alcuni potrebbero lamentarsi di non avere abbastanza tempo per la famiglia o di sentirsi distanti da qualcuno. È giunto il momento di esternare tutto ciò che hai tenuto nascosto. L'universo ti sostiene affinché tu possa liberare la tua creatività e sensibilità. Parla liberamente di ciò che ti opprime o ti tormenta dall'interno. Comprendo che questo possa costituire una sfida considerevole per te, prendila con calma, esplorando nuovi modi di esprimere ciò che provi e pensi. Ciao Acquario. Questo è il momento perfetto per liberarsi dal peso dei pensieri superflui e abbracciare un futuro più libero e luminoso. Non è necessario fare grandi gesti come prendere il primo treno o aereo per fuggire lontano. Anche piccoli cambiamenti possono fare la differenza nel migliorare il nostro benessere. Riflettere sul proprio aspetto e optare per un nuovo look o rinnovare l'ambiente domestico possono essere semplici ma efficaci modi per iniziare. Aspetta con pazienza il periodo più costruttivo che inizia da giugno in avanti. Nel frattempo, è il momento ideale per sperimentare nuove idee e progetti. Rivedi con ottimismo i programmi esistenti e trasformali in qualcosa di positivo. Con l'arrivo di venere nel tuo segno, l'amore tornerà a brillare nella tua vita. Un flusso di nuove persone e emozioni arriverà nella tua vita. Se desideri organizzare un romantico appuntamento o compiere gesti gentili per qualcuno, e anche per te stesso, perché no, sappi che le stelle sono dalla tua parte e ti incoraggiano. Importante è che tu riconosca l'amore che ti circonda e ti lasci trasportare da esso con leggerezza. Ciao pesci! Dopo una fase agitata, sembra che finalmente tu stia ritrovando la serenità. Anche se potresti sentirti un po' apatico, le cose inizieranno a migliorare già dal pomeriggio di domani. Le stelle sono dalla tua parte, soprattutto nella giornata di domenica, che si prospetta come un momento di premio e gratificazione. Non permettere al passato di offuscare il tuo presente, se hai intenzione di riaccendere una fiamma amorosa, puntare sul weekend potrebbe essere la mossa giusta. Questo è un periodo che ti offre l'opportunità di vivere nuove emozioni e di lasciarti alle spalle gli ostacoli che hanno causato dolore in passato. Dimenticare i momenti tristi e le persone disoneste ti aiuterà a liberare spazio per emozioni più positive, soprattutto per gli amori che hanno dimostrato la propria solidità fino a questo momento. In questi giorni, godrai di una carica straordinaria, intrisa di forza, magia e fortuna. Sono sinceramente felice per te, vedendoti trionfare in ogni tuo progetto. Ti presenti come un sovrano capace di trasformare tutto in oro, riprendendo soprattutto fiducia in te stesso e sicurezza. Ricorda sempre chi sei nella tua essenza più autentica, perché con l'universo dalla tua parte, nulla può andare storto.